Sindaco, ancora una volta l'ennesimo balzello contro il Nord. Assolutamente sì, dal 1 gennaio autostrade ammontate ma solamente al Nord, grande raccordo anulare a Roma e l'autostrada da Salerno in giù non si pagano così come non si sono mai pagate. Questo purtroppo avrà una ricaduta negativa anche sui prezzi al consumo che le famiglie dovranno sostenere perché tutte le merci che viaggiano su gomma ovviamente avranno dei rincari. Noi chiediamo che venga riveduto tutto il sistema del pagamento dei pedaggi autostradali. Abbiamo l'esempio della vignetta svizzera a 32 euro, 40 franchi, proprio qua dietro l'angolo. Il ministro Lupi deve assolutamente portare avanti quello che è un'istanza del Nord, cercare di mettere sul tavolo del governo una rimedicazione che tramite un'interrogazione parlamentare fatta dall'onorevole Molteni, sempre molto puntuale, abbiamo portato in Parlamento. Purtroppo ancora una volta paga il Nord, paga solamente il Nord perché le autostrade del Sud non è che siano gratis perché un costo di gestione ce l'hanno, la realtà è che qualcuno paga anche per loro.